Siamo con Don Carlo Pisani, parroco della Chiesa Madre della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, dove è avvenuta la benedizione dell'effigie del Beato Carlo Acutis con la mamma Antonia collegata, un momento bello di grande emozione e di grande spiritualità. Come è possibile spiegare la grande devozione che si sta raccogliendo attorno alla figura di Carlo Acutis e che sta rivitalizzando la Chiesa anche rispetto al mondo giovanile? Perché è un nostro contemporaneo, è uno che parla il nostro linguaggio, è uno che sentiamo estremamente vicino. Questo credo sia il segreto, anche la mamma in un certo senso lo richiamava nel collegamento streaming. Carlo era uno simpatico, una persona umanamente simpatica, una persona gioviale, una persona che sapeva avere a cuore tutti gli aspetti della vita. Lei diceva che non era un bacchettone. Questo lo tiene lontano da quegli stereotipi che spesso si sono creati attorno alle figure dei Santi che li hanno resi troppo lontani da noi. Questo non senza colpa di chi ne ha scritto le biografie degli agiografi. Invece Carlo lo sentiamo amico, lo sentiamo compagno di cammino. Perché? Perché appunto la sua testimonianza è fresca, immediata, va diritto al cuore. Avremo questo bellissimo quadro che è stato realizzato da Giancarlo Pignataro. A partire dall'otto, la solennità dell'Immacolata Concezione nella chiesa di San Francesco. Come mai questa scelta? Tra l'altro insieme al quadro ci sarà anche la reliquia di Carlo, un capello che è stato dato proprio dalla famiglia Cutis per la venerazione. La scelta di portare il quadro a San Francesco è questa il motivo. Carlo nutriva una profonda devozione verso Francesco d'Assisi, tanto da voler essere sepolto nella città, nella sua città, nella città Serafica. E poiché noi abbiamo, potremmo dire, un pezzo di Assisi nella nostra città, che è la chiesa di San Francesco, un luogo suggestivo non solo per la bellezza naturale, ma perché racconta di questa ininterrotta presenza della spiritualità francescana. Mi è sembrato più che opportuno che fosse quello il luogo in cui custodire il quadro di Carlo e quindi dedicarlo al culto di Carlo, oltre a quello di Francesco. Due santi che, pur vissuti 800 anni di distanza l'uno dall'altro, hanno tanto, tanto in comune, fra cui la centralità dell'eucaristia. Il quadro di Carlo sarà proprio collocato nei pressi del tabernacolo, vicino all'immagine dove è costituita anche l'immagine di Francesco d'Assisi nella sua chiesa. Se volessimo fare un invito ai giovani, che sono anche un po' lontani dalla chiesa, perché la testimonianza di Carlo può essere un messaggio importante per riconoscere la bellezza della fede? Sì, sicuramente l'appartenenza delle varie parrocchie, quindi di tutti i ragazzi, sta a simboleggiare il fatto che la chiesa di Cristo è unica e quindi è unita. Non ci sono parrocchie che vengono divise. Diciamo che Carlo può essere d'aiuto a molti giovani, soprattutto perché noi giovani ci immedesimiamo e quindi può essere d'esempio, anche perché essendo lui un ragazzo, noi comunque pensiamo alla maniera anche di Carlo e quindi proprio da lui che è ragazzo possiamo prendere esempio noi, perché appunto diciamo lui ha avuto la nostra età, lui era come noi e quindi non guardare Carlo come una figura santa che però è distaccata dalla realtà, ma guardare un Carlo come noi e quindi questo vuole farci capire Carlo che è Gesù che è la vera felicità e quindi la cosa bella è riscoprire la vera fede, questo è quello che secondo me ci insegna Carlo. Diceva Carlo che tutti nasciamo originali ma molti muoiono fotocopie e bisogna essere veramente sempre consapevoli che il rischio di essere fotocopie è sempre all'angolo perché purtroppo spesso si seguono falsi strade, falsi ideali, falsi miti e quindi quello che ha saputo fare Carlo è saper intercettare quello che era il progetto che Dio aveva per lui e saperlo portare avanti, che è quello che veramente dobbiamo fare tutti. Quello che è importante è capire che la spiritualità di Carlo che si basava soprattutto sull'Eucaristia, che Gesù con noi, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi, lui la chiamava la mia autostrada per il cielo, ecco l'Eucaristia è stato il fulcro e il centro di Carlo perché Carlo beveva, qualsiasi cosa che faceva la faceva con Gesù, in Gesù, per Gesù. Carlo la sua vita è stata una vita ordinaria come quella di tutti noi, che di fatto ogni vita è ordinaria, ma diventa straordinaria laddove noi permettiamo a Cristo di entrare, allora diventa una vita straordinaria e quindi è importante, soprattutto anche l'adorazione eucaristica perché attraverso l'adorazione eucaristica il Signore ci dona vocazioni sacerdotali, ci dona la santità perché veramente sono momenti di grande grazia, è importantissimo.